e allora parliamo ancora di usato lo facciamo in maniera più rilassata più confortevole parliamo di usato appunto quali sono le novità di quest'anno ciao Ilaria ciao a tutti ci troviamo qui nello stand man a Misano novità di quest'anno beh veicoli usati rappresentano sempre per noi un aspetto molto importante del nostro business anche di seconda mano è importante garantire ai nostri clienti massima affidabilità ed efficienza ecco quindi che noi abbiamo una serie di controlli che oggi cercano di garantire più possibile i nostri clienti e di fornigli dei veicoli anche freschi quindi che hanno uno o due anni con la garanzia di un mezzo quasi nuovo con dei finanziamenti su misura e soprattutto con molte soluzioni personalizzate anche in termini di contratti di manutenzione direi che queste oggi sono delle leve che aiutano sicuramente a dare maggiore valore al secondo usato di mano io ti ringrazio tantissimo Alessandro e noi andiamo avanti al prossimo stand ciao